A chiedere uno stop al caro Bolletta è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa nella sede territoriale di Caltanissetta, da voce così al grido di aiuto alle imprese per la grave crisi in corso che definiscono essere una corsa inarrestabile all'aumento dei prezzi delle materie prime ed energetiche. CNA è fortemente preoccupata sull'andamento di quello che è il continuo aumento delle bollette, sia della luce che del gas, sia per quanto riguarda le nostre imprese sia per quanto riguarda le famiglie e quindi i cittadini. Perché temiamo che questo sia una miscela esplosiva che porti alla chiusura di centinaia di imprese e al licenziamento di non sappiamo quanti lavoratori con un problema anche sociale. Quindi da qui nasce il grido di dolore e di aiuto che CNA sta lanciando al Governo regionale, nazionale e a Bruxelles. In quest'ottica ci stiamo impegnando per fare delle assemblee perché chiediamo alle amministrazioni locali di darci manforte, di essere anche loro protagoniste insieme a noi, insieme alle altre associazioni datoriali e sindacali per fare poi a novembre, il 7 di novembre, una grande manifestazione regionale a Palermo dove porteremo in piazza, speriamo, decine di migliaia di persone, di imprese perché chiedere aiuto, per chiedere un sostegno, per chiedere che il Governo non lasci da sole queste imprese perché la fine sarebbe catastrofica. Quindi una situazione di profonda emergenza che rischia di abbattersi sul lavoro e sulle famiglie ed è per questo che CNA organizzerà già nei prossimi giorni assemblee cittadine nei 22 comuni della provincia di Caltanissetta coinvolgendo le amministrazioni locali, le organizzazioni datoriali, le organizzazioni cittadine di imprese dell'intero territorio nazionale e tutto in vista della manifestazione che si terrà a Palermo il 7 novembre prossimo.